La telefonata di Silvio Berlusconi è arrivata intorno a mezzogiorno, l'ufficializzazione che il candidato governatore di Forza Italia in Toscana è lui, Stefano Mugnai, 46 anni, fiorentino, residente a Montevarchi, avvocato, gli ultimi 5 anni passati in consiglio regionale a fare opposizione sul serio a Enrico Rossi, proprio sul terreno che sta più a cuore al presidente uscente, la sanità. Una candidatura sofferta, osteggiata dall'ala verdignana del partito e sostenuta da Deborah Bergamini e Giovanni Toti, che alla fine l'hanno spuntata. Si parte per dare la speranza di una Toscana diversa, una Toscana migliore, una Toscana più libera, libera dalle burocrazie, dalle pastoi, da un sistema di potere che la sinistra ha organizzato in questi anni di governo senza soluzione di continuità. E proprio per cambiare la Toscana del PD, Mugnai ha rivolto un appello alle altre forze del centro-destra per formare una coalizione che lo sostenga alle regionali. Ci sono già dei candidati assolutamente autorevoli e validi nell'espressione di forze del centro-destra. Il mio appello è anche a loro, è far capire che probabilmente con un gesto di generosità, che mi rendo appunto non è semplice a questo punto, però se l'interesse vero è cercare di creare un'alternativa nell'interesse dei cittadini, nell'interesse di una Toscana migliore, bisogna unire le forze, perché correre divisi in realtà temo che farà sì che l'astensionismo dell'elettorato di centro-destra, ma non solo, anche dell'elettorato stanco di questo modo di governare che il PD ha messo in atto in questi anni, certamente un elettorato che non gradisce la candidatura di Rossi, e se non gli dà una proposta organica a molti di questi probabilmente il ponte del 31 maggio andranno al mare. Per la cronaca, la Lega ha già scelto come candidato governatore l'economista Claudio Borghi, Fratelli d'Italia il consigliere regionale Giovanni Donzelli e area popolare il presidente della Camera di Commercio di Grosseto Giovanni Lamioni.